Ebbene sì, anch'io ero curioso di testare e provare questi fucili con la testata roller, ovvero con le puleggie. Mi sono subito allestito un Omer HF100 con la testata roller della LG, montando un'asta da 7 mm x 130 cm e usando il sistema inverter, ovvero 4 elastici da 16 mm sotto al fusto accoppiati da 2 elastici da 14 mm sopra. Nonostante avesse la stessa impugnatura e lo stesso fusto di quelli che usavo già da tempo, ho avuto difficoltà ad adattarmi. Dopo diversi test al bersaglio e diverse cilecche, finalmente qualcosa la riesco a catturare. Il sole si solliva e provo a pescare un po' più a largo. Non aspetta molto ad arrivare l'ennesima cilecche. Meglio che non ci penso e proseguo la pescata. Trovo una bella strisciata di grotto e mi metto a scorrere. C'è una bella presenza di saraghi. C'è una bella strisciata di grotto. 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 Grazie a tutti. 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 Nonostante tutto posso tornare a casa soddisfatto. Grazie per la visione e auguro a tutti voi una buona epifania. Se vuoi rimanere sempre informato sui prossimi video, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e premi sulla campanella. Ciao, alla prossima avventura!